In questa video guida, vedremo alcuni consigli, per scegliere i migliori sacchi termici per passeggino. Chi ha un bambino piccolo necessita di un sacco termico per passeggino, grazie a cui poterlo portare fuori quando fa molto freddo, anche per lunghe passeggiate. La struttura è simile a quella di un sacco a pelo con cappuccio che lascia scoperto il viso. I materiali dei sacchi termici per passeggino solitamente sono poliestere, nylon o altri tessuti sintetici per il rivestimento esterno, il quale è idrorepellente. All'interno invece le imbottiture possono essere di lana, pile o altri materiali caldi e confortevoli. La scelta delle dimensioni dipende dall'età del bambino, ma in genere si possono trovare modelli versatili, in grado di accompagnare i propri figli dai 6 ai 36 mesi. Per fissarlo al passeggino basta far passare le cinture di quest'ultimo nelle apposite asole. 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 Asole.